Namaste. Oggi andiamo a vedere una sequenza base di pranayama, una sequenza che può essere utilizzata sostanzialmente anche dalle persone principianti che non ho mai fatto pranayama. Ottima sequenza perché è molto breve per iniziare a fare una propria routine quotidiana. Molto bene alla mattina, ovviamente il stomaco vuoto, trovarsi un posto tranquillo, magari proprio al sorgere del sole, dove poter lavorare su se stessi. Andiamo a fare tre respirazioni, la respirazione yogica completa, Kapalabhati e Nadi Shodhana, respirazione alla ricetta nata. Questi sono tre pranayama essenzialmente fondamentali per iniziare a prendere consapevolezza del nostro respiro e, diciamo in maniera più estesa, consapevolezza e controllo della nostra mente e delle nostre emozioni. Ci sediamo in una posizione comoda, questo è il primo passo fondamentale, a costo di mettermi due o tre cuscini, al limite tutto ciò che facciamo può essere fatto in posizione seduta su una sedia, se sento che le ginocchia non mi danno possibilità di assumere questa posizione qua. Se riesco a stare a gambe incrociate mi metto in posizione comodissima, magari con un asciugamanino sotto le natiche, schiena lunga lunga e con un requisito fondamentale è la colonna ben estesa, spalle ben rilassate, restiamo qui qualche respiro, lascia scivolare bene giù le scapole, si chiude gli occhi per iniziare a portare l'attenzione dentro, mi lascia bene la mandibola, la lingua, facciamo delle respirazioni spontanee, e vi sogniamo con un om, senti la vibrazione che continua a propagarsi per il corpo, lascia che questa vibrazione si propone, e iniziamo con il primo respiro, che è la respirazione yogica completa. Inspiriamo dalla pancia, poi il torace, espandi bene la gabbia toracica anche posteriormente dove ci sono le scapole fino alle clavicole e poi l'aria esce dalle clavicole, torace, pancia. Continua un po' di respiri senza grosse pretese cercando proprio questo sentiero per l'aria dalla pancia alla base del collo e poi l'aria esce dalla base del collo fino alla pancia. Cerca di rilassare tutto ciò che non serve, cerca di mantenere la colonna estesa, se puoi mani appoggiate sulle ginocchia, meglio in chin mudra, pollice indice si toccano, si sfiorano. Continua questo pranayama, appoggia la punta della lingua sul palato duro, sulla parte alta della cavità buccale, non stringere la mandibola, i denti non si toccano ma la lingua tocca la parte alta della cavità buccale. Continua questo viaggio dalla pancia fino alle spalle e poi dalle spalle fino alla pancia. continua ad allungare la schiena, continua a rilassare tutto ciò che non serve. Gli occhi sono chiusi e se puoi ruota i bulbi oculari verso la radice del naso, verso l'interno della teca cranica. Se e solo se riesci a mettere tutte queste cose, schiena ben retta, rilassa tutta la periferia, punta della lingua sul palato duro, occhi verso la radice del naso, attiva anche dolcemente il mula banda, il pavimento pelvico, risucchia gli sfinteri un pochino verso l'alto. e tieni in questa dolce attivazione a livello proprio della base del tuo perineo, il muladhara chakra. Dolce, non massimale. Senti come questa attivazione del pavimento pelvico ti dà l'indicazione di dove mettere la tua colonna. Facciamo ancora dodici lunghi, completi respiri, yogici completi. completi non vuole dire forzati, non vuole dire massimali, completi vuol dire ampi, liberi, senza mai arrivare a cristallizzare il corpo. senti sempre il corpo pieno di vita. Non aveva fretta di inspirare, non aveva fretta di espirare. e vi lascia bene la pelle del viso. l'aria entra ed esce lentamente attraverso le narici. annusa bene l'aria che entra. ancora tre bei respiri completi, lenti, vissuti. segura ... segura ... ... Ultimo, bel respiro, ruffia la pancia, torace, clavicole, fuori tutta l'aria, clavicole, torace, pancia, concludiamo con apnea polmoni vuoti, vuota tutta tutta l'aria, rimani in apnea polmoni vuoti e lascia, se necessità lentamente apri gli occhi, libera la posizione, sciogli un po' la posizione, non portare tensione da un pranayama all'altro, massaggia un po' il corpo, dove senti tensione puoi andare proprio a scioglierla anche fisicamente. Torniamo in posizione comoda, seduta e facciamo Kapalabhati, che sono delle contrazioni ritmiche dell'addome, l'addome va verso dentro, l'aria esce ed entra attraverso le narici, le bocche sono chiuse, l'espirazione molto attiva, l'inspirazione passiva, esattamente l'opposto della respirazione normale, usuale, quella della vita ordinaria, è una respirazione opposta, l'aria esce in maniera attiva come un colpo di tosse, colpo di tosse attraverso la bocca, invece qui va attraverso le narici, facciamo le mani sulla pancia, senti proprio questo, l'aria esce, con questa attivazione addominale, essenzialmente del diaframma, cerca di mantenere tutto il resto del corpo, non dico rigido, fermo, ma fermo, ben allineato, non coinvolgervi, perciò no, non portarti dietro le spalle, non portarti dietro la testa, cerca di mantenere tutto sostanzialmente fermo, dei piccoli colpi, dei piccoli colpi diaframmatici che fa uscire l'aria attraverso la gola che resta rilassata e le narici, lascia perciò il corpo rilassato, spalle rilassate, chin mudra, pollici indici si toccano, lascia cadere bene giù le braccia, i gomiti, le spalle, schiena lunga, segui il mio ritmo. fuori tutto, tutta l'aria, apriamo i polmoni vuoti, fuori tutto, tutta l'aria, e respira, un po' di respiri spontanei, ne facciamo ancora due serie, facciamo tre serie da 33, facciamo ancora due serie, ti raccomando l'espirazione attiva, l'inspirazione passiva, tutto il corpo fermo, tranquillo, colonna lunga e ricominciamo. calcio tief 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 lt fuori tutta l'aria appena polmoni vuoti il primo disagio inspira ultima serie schiena lunga spalle rilassate gola rilassata segui il mio ritmo il ritmo è molto importante circa un battito al secondo fuori tutta tutta l'aria appena polmoni vuoti apri gli occhi libera posizione sciogli un po di tensione libera le gambe batti i piedi facciamo l'ultimo pranayama della serie fondamentale che è una di shodhana respirazione a narici alternate timiti sempre posizione comoda seduta va bene ricordo anche sulla sedia se senti tensione è meglio agevolare la posizione che mantenere la tensione per mantenere la posizione incrociare le gambe se puoi schiena lunga facciamo questo mudra indice e anulare appoggiano sull'imminenza tena del pollice della mano destra scusate indice e medio sull'imminenza tena della mano destra anulare il mignolo non restano libere e pollice resta libero con il pollice andiamo a chiudere la narice destra con l'anulare e il mignolo andiamo a chiudere la narice sinistra l'altra mano sinistra chin mudra pollice indice si sfiorano e appoggiamo la mano il polso sul ginocchio spalla rilassata se sento che la mia spalla destra dopo un po inizia a far fatica posso prendere ed aiutarmi con la mano sinistra a sorreggere il gomito se questo mudra hasta mudra se questa conformazione della mano è troppo difficile pollice e indice senza nessun problema facciamo delle respirazioni lente seguite ciò che vi dico praticamente l'aria entra attraverso una narice esce attraverso l'altra rientra ed esce fa questo percorso qua sale su esce dall'altro lato risale su esce dall'altro lato lo facciamo in maniera molto semplice senza kumbake senza apnea una respirazione lenta continua cerchiamo di far sì che il tempo dell'inspirio sia più o meno simile al tempo dell'espirio fuori tutta l'aria dalla narice sinistra con il pollice blocco alla destra inspira dalla sinistra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla destra inspira dalla sinistra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla destra inspira dalla sinistra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla sinistra inspira dalla destra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla destra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla destra chiudi la sinistra fuori l'aria dalla sinistra continua con questa modalità grazie a tutti grazie a tutti ancora tre cicli completi ricordati la colonna bene allineata occhi chiusi lingua sul palato duro parte alta della cavità buccale se vuoi il pavimento pelvico dolcemente attivato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti quando l'aria esce dalla narice sinistra libera il mudra appoggia di nuovo le mani sulle ginocchia cin mudra su entrambe le mani resta ancora un attimo occhi chiusi senti tutte e due le narici pervie l'aria entra esce attraverso le narici risuoniamo un om mamma in avanti al cuore namaste grazie a tutti